Insegnare l'alfabetizzazione finanziaria ai bambini può essere più facile di quanto si possa pensare. Come in tutte le cose non si parte parlando su come avviare una IPO ma sono tanti piccoli passi e poi loro ci sono già abituati a fare piccoli passi e il problema invece potremmo essere proprio noi genitori che non sappiamo come porci nei loro confronti. Con semplici lezioni pratiche possiamo avvicinare i nostri figli a questo mondo affascinante. Ciao a tutti e bentornati sul canale Unrisparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e il risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario IF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo voglia acquistare dove racconto la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore incallito. I figli sono giovani ma sono abbastanza grandi da assorbire e osservare i nostri comportamenti nei confronti del denaro, anche del denaro. La fase fondamentale è che dobbiamo essere noi dei modelli esemplari in cui si vanno a identificare e che vogliono imitare in modo che si pongano in un'ottica migliore verso il civile denaro. Ad esempio dobbiamo chiederci se stiamo dando un buon esempio su come gestiamo i nostri soldi, di come noi parliamo con loro e come noi percepiamo il denaro, noi stessi. Qualunque sia la tua prospettiva finanziaria personale, il consiglio più forte è evitare gli estremi, non essere troppo severo o troppo libero con le tue spese poiché entrambi potrebbero avere un impatto molto forte e duraturo sul rapporto che i tuoi figli hanno col denaro. Un problema iniziale è che i bambini piccoli non possono concettualizzare il denaro. Oramai poi siamo in un mondo in cui le transazioni in contanti sono quasi inesistenti e complicano inizialmente la possibilità dei bambini di capirne e di carpirne il funzionamento. L'uso di monete e banconote reali rimane il modo migliore per cominciare questa alfabetizzazione e insegnarla ai bambini nella prima infanzia. All'esempio creare un salvadenaio può essere un primo step e quando si va a pagare in un negozio con la carta si potrebbe spiegare che significa che non devi portare con te il tuo barattolo di monete o il tuo maialino salvadenaio. Un approccio è quello del gioco, i bambini capiscono all'inizio solo il gioco soprattutto in tenere età, iniziando subito a gettare le basi per buone abitudini di risparmio in modo che sia divertente e gratificante è a mio parere la via migliore. Una cosa è parlare di risparmio e crescita ma il modo migliore è spiegarlo in tenere età e di renderlo divertente. Un barattolo o un maialino salvadenaio, come dicevo prima, rimangono il modo migliore per dimostrare il concetto di accumulare risparmi per il futuro. Un esempio potrebbe essere quello di utilizzare dei contenitori trasparenti, magari che possono essere decorati insieme ai bambini e che possono aiutare visivamente a vedere come cresce il capitale. Magari al raggiungimento di alcuni livelli del barattolo si potrebbe fare una specie di premiazione consentendogli per esempio di prelevare uno o due minutini premio da utilizzare per conto proprio, magari per un gelato o magari per un giocattolo. Quando si va a fare la spesa è forse il momento migliore per fare degli approfondimenti, magari discutendo del valore dei soldi, dimostrando che si spende in modo ragionevole e per quale motivo lo si fa, incoraggiando appunto i bimbi a fare in modo simile. Il negozio di alimentari per me è un perfetto ambiente per parlare di come prendi le decisioni sugli acquisti, soprattutto quando si passa dalla sezione tanto amata non solo dei bimbi in realtà, dei dolci o delle bevande zuccherate, magari dopo aver spiegato il perché facendogli prendere una decisione di acquisto una volta a settimana, una caramella, una bibita, un giocattolino, magari spiegandogli che mamma e papà hanno dovuto lavorare lontano da casa per un tot numero di ore o di giorni per fargli comprendere il concetto. I bambini amano molto essere inclusi nelle decisioni perché col passare del tempo amano essere indipendenti nelle loro scelte e questo è il motivo per quale davo il consiglio prima di fargli acquistare ogni tanto qualcosa a loro. Detto questo secondo me ci sono degli step che piano piano vanno spiegati ed approfonditi. Il primo passo è quello di guadagnare. Infatti insegnare i figli e insegnare come sono i soldi e come guadagnarli o come le persone fanno i soldi. Puoi farlo per esempio assegnando dei semplici compiti o delle commissioni in cambio di un compenso monetario. Quest'attività le aiuterà a capire il processo del guadagno. Nel bimbi piccoli come il mio che ha solo tre anni non avrebbe senso ma nei bambini magari di età più avanzata scolare ad esempio sei o sette anni si possono ottenere risultati secondo me molto importanti in pochissimo tempo. Il secondo step potrebbe essere il budget. Potessi pensare che il passo successivo sarebbe quello di insegnare ai bambini come spendere i soldi ma non è così perché i bambini potrebbero già avere una conoscenza di base della spesa anche se non hanno mai la praticata in prima persona. Devi prima insegnare loro il budget perché è uno degli aspetti più importanti della gestione finanziaria. Siamo tutti noi consapevoli di quanto un budget insufficiente o assente possa portare a dei problemi finanziari soprattutto all'inizio. Consideriamoci anche noi bimbi in questo quindi potremmo sederci con i figli e insegnare loro come dividere i loro guadagni per i vari scopi o desideri che hanno. Poi passiamo al risparmio che è una parte importante della gestione finanziaria e dell'alfabetizzazione finanziaria. Quando si tratta di garantire il nostro futuro finanziario non possiamo sottovalutare l'importanza del risparmio. Di conseguenza dobbiamo anche insegnare ai nostri figli questa lezione. Quando è stabilito un budget devi anche insegnare loro a mettere da parte una quota dei loro soldi per risparmiare. Possiamo fingere noi di essere la loro banca o semplicemente come abbiamo fatto abbiamo detto all'inizio usare il famoso maialino barattolino trasparente. Poi c'è l'investimento. Investire come il budgeting o il risparmio è una componente essenziale di una buona gestione finanziaria. Se vogliamo un futuro finanziariamente sicuro dobbiamo investire. Ma cosa ne possono capire i bambini di investire? Beh sebbene i bambini non possano investire fisicamente si possono organizzare dei giochi di investimento soprattutto a dell'età che siano dopo le elementari perlomeno affinché capiscano il concetto vero e proprio. Il gioco qui ci torna utile come ad esempio un monopoli potrebbe essere un buon modo per fargli capire cosa è un investimento anche se si litiga spesso. Io litigavo sempre con tutti a monopoli. Infine spendere ultima ma non per importanza bisogna insegnare ai propri figli quando si tratta di alfabetizzazione finanziaria anche come si spende perché potrebbero già avere una vaga idea di come spendere i soldi o di come funzionano. Tuttavia come passo finale dell'insegnamento dell'alfabetizzazione finanziaria a casa bisogna fare capire come spendere saggiamente i loro soldi e come una spesa sconsiderata possa portare degli enormi problemi finanziari e io come sapete se seguite il canale ne sono una prova e una forma vivente. Bene fammi sapere cosa ne pensi qui sotto di queste mie considerazioni lascia un commento se questo video vuoi è stato di tuo gradimento ti chiedo per favore di supportarmi veramente con pochissimo lasciando un bel pollice in su per l'agrodittimo youtube per farmi crescere sulla piattaforma e per farmi capire che questi contenuti sono di tuo gradimento. A te costa un attimo ma per me significa il mondo. Se poi sei nuovo sul canale ti chiedo per favore di iscriverti di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che dirti arrivederci e a un prossimo video. Ciao!